diciamo di questo atteggiamento, diciamo la prospettiva politica e per cui probabilmente sai in una situazione di questo tipo gli costerà di più per il tipo di scommessa che hanno fatto tentare di registrare la propria posizione, avranno una maggiore difficoltà. Però è evidente che in un'area come quella del centrodestra, che adesso addirittura diciamo se ti ricordi le ultime settimane noi parlavamo diciamo del fenomeno Meloni, è chiaro che ci sarà una ridistribuzione, una ridistribuzione del consenso, perché poi indipendentemente da tutto, poi alla fine è chiaro che tu, come dicevo prima, se Trump è una cosa che sta fuori dall'albero istituzionale, tu per contare, per governare, specie in una democrazia parlamentare come questa, devi avere un altro tipo di codice, perché altrimenti non entri. Sono chiaro? Se tu ad esempio all'interno della maggioranza di giallorossa si pone il problema di Conte per i rapporti con Trump, immaginati una cosa del genere fatta all'esterno e di fatto Berlusconi lo fa, Berlusconi poi diciamoci la verità, non ha mai avuto rispetto diciamo al rapporto che aveva con Bush, ma non ha mai visto Trump come un modello, se mai è successo il contrario, ma io mi ricordo fin dall'inizio ha sempre detto io sono una cosa diversa da Trump, quindi questo gli va riconosciuto, però mi sembra ecco, è chiaro che questo è una cosa che cambierà molto, diciamo, dato che ha caratterizzato, sai il problema è che il trumpismo ha caratterizzato anche molto la politica diciamo internazionale in diversi paesi, è chiaro che una situazione di questo tipo ti porterà diciamo a doverti diciamo ecco, tu hai parlato restyling, ma una cosa di questo tipo sicuramente a riterare diciamo così, a riaggiornare il software, e ne mi meraviglia la storia di Biden come dicevo prima, è chiaro che Biden, perché diventa duro? Perché questa cosa qui la espelle nel senso, da una parte, adesso riconosci, poi tante volte si fanno bene, riconosci Berlusconi come riconosce diciamo il GOP tradizionale, non riconosci quello che sta dall'altra parte e lo poni fuori, anche perché è estremamente pericoloso tenerlo dentro sì, anche metterlo fuori a volte, questo l'abbiamo già visto in Italia però io sono d'accordo con te, però c'è un problema di fondo, che secondo me noi ancora non calcoliamo è il fatto che se tu rimani qui dentro, nel senso perché Trump poteva fare questo? perché rappresentava anche l'istituzione insieme, era da una parte questa cosa, l'establishment ma anche era la casa bianca, tanto per essere, quando tu stai fuori, il problema è un po' più complicato avere questa veste istituzionale che ti fa diventare diciamo un prodotto commestibile politicamente anche nell'anveo democratico, quello è il problema Antonello, questo dualismo però